Ciao, mi chiamo Roglia e ne ho 8 anni. Faccio arti marziali con il maestro Torregrossa. Mi trovo troppo bene e lo consiglio a tutti. Ciao, io mi chiamo Angelo Baglio e ho 7 anni. Bravo, ok. Cosa fai? Ti diverti qui? Sì. Cosa pratichi? Arti marziali? Arti marziali. Bravissimo, ok, grazie. Ciao, anche io mi chiamo Angelo, però mi chiamo Angelo Cardella, ho 9 anni e mi diverto qua, ci sto bene, ci sto bene. Grazie, ok. Mi chiamo Liborio, ho 9 anni, faccio la scuola di samurai dojo con il maestro Torregrossa. Qua mi trovo molto bene e spero di diventare un samurai come lui. Ciao, io mi chiamo Giuseppe, ho 9 anni e faccio arti marziali con Torregrossa. Grazie. E dico una cosa che consiglio a tutti. Ciao, io sono Giuseppe Giambra, ho 9 anni. Mi trovo benissimo nella palestra con il maestro Alfonso. Ve lo consiglio a voi, perché stiamo pure in baranzia l'autocontrollo. Us. Us, io mi chiamo Salvatore Barberi e sono nella palestra del maestro Alfonso Torregrossa. Io la consiglio a tutti. Grazie. Ciao, io mi chiamo Mattia Grandi, ho 8 anni e consiglio a tutti di venire in questa palestra perché è la più bella del mondo. Ve la consiglio a tutti, è bellissimo. Ciao, io mi chiamo Tommaso, ho 9 anni e vado in palestra a praticare arti marziali dal maestro Alfonso Torregrossa. Mi trovo molto bene e lo consiglio a tutti perché ci fa fare autodifesa. Salutate! Ciao! 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 Ciao!